di cosa parlo ora? come vedete sto riprendendo questo zaino che ha questa chiusura lampo grande non so se si vede... mi piace una cifra mo dovrei... con una mano sto prendendo la videocamera, con l'altra dovrei chiudere? non ce la faccio, ce l'ho notumani vabbè comunque... perché sto a fare sto video? ecco a me mi piace una cifra di chiusura lampo grandi ecco, mo io ho sto zaino da tanto tempo ricordo di averlo usato nel 2004 quindi su almeno 14 anni che ce l'ho insomma sta dura una cifra questa cosa mi piace... dicono che le chiusure lampo grandi resistono molto, spero che sia vero perché se sta chiusura si rompe... non so dove trovare una chiusura uguale... cioè... è vero che... vorrei metterci una chiusura lampo più piccola però a me mi piace grande io sto a fare sto video per pubblicizzare le chiusure lampo grandi perché così è facile e tanta gente nei negozi si chiede zaini come questo e quindi se per caso questo zaino si rompe... trovo uno uguale o nel caso in cui lo faccio riparare... trovo... insomma mi faccio mettere una chiusura un po' come questa un momento... vediamo se riesco a tenere la videocamera in modo... no così sto da capo a 12... ecco ho trovato un modo... però non funziona però... sto a tenere fermo lo zaino con la stessa mano con cui tengo la videocamera quindi non so che ce capirete... a me sa che questo è tra i peggiori video che ho fatto... vero? anche se sto registrando in formato full hd... vabbè basta... ho parlato abbastanza... mo chiudo... grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione